Comiso ha un nome il volto dell'incendiario dell'ufficio protocollo Vittoria, maxi sequestro di giocattoli e materiale elettrico privi del marchio C Modica, consiglio comunale infuocato sulla Ragusa Catania Ragusa, uno spettacolo tra teatro e danza per raccontare Frozen, il regno di ghiaccio Ben trovati con l'informazione di Canale 74 A Comiso ha un nome il volto dell'incendiario dell'ufficio protocollo del comune La polizia ha trasmesso un video nei giorni scorsi e adesso il cerchio sembrerebbe chiuso La polizia del commissariato di Comiso e la squadra mobile di Ragusa avrebbero identificato l'uomo autore dell'attentato incendiario del 24 dicembre Nell'ufficio protocollo del comune di Comiso Nonostante le festività sono stati giorni di indagini meticolose serrate, quelle della polizia comisana Che aveva anche diffuso il video dove si poteva chiaramente vedere il volto dell'incendiario Le immagini della telecamera di videosorveglianza che inquadra nel volto dell'autore del rogo Pare non abbiano lasciato dubbi sull'identità dell'uomo Irresponsabile alle ore contate avevano spiegato in un comunicato stampa della Questura nei giorni scorsi E il dirigente del commissariato di Comiso Emanuele Giunta aveva assicurato che si stavano visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza Di tutta la zona e anche di altre vie del centro abitato per individuare e ripercorrere gli spostamenti dell'uomo Un'individuazione non poi così difficile dato che alle 4.30 del mattino non sono in tanti a transitare per le strade Spiegate il dirigente che ha anche confermato di avere ricevuto numerose segnalazioni dai cittadini che erano in corso di verifica Dalle immagini ricostruite si vede chiaramente l'incendiario che arriva da via Canonico Flaccavento Una stradina chiusa che si conclude in via Nicola Cabibbo e da lì conduce verso la piazza Fonte Diana o verso il corso Vittorio Emanuele Due direzioni di marcia obbligate per l'uomo incappucciato che ha però scoperto il volto all'interno dell'edificio Una leggerezza che gli è costata cara Ancora non si conosce l'identità dell'uomo ma le forze dell'ordine sarebbero già risalite a lui senza molti dubbi E' un altro incendio oggi a Comiso, stavolta in fiamme un camion al mercato ortofrutticolo Le indagini continuano, non si esclude la matrice dolosa A pochi giorni dall'incendio doloso all'ufficio protocollo di Comiso i vigili del fuoco ritornano a spegnere le fiamme in città Questa volta al mercato ortofrutticolo A bruciare sarebbe stato un camion di proprietà di un concessionario interno al mercato Le fiamme sarebbero divampate dopo la mezzanotte e i vigili del fuoco avrebbero impiegato un paio d'ore a spegnerlo Sul luogo sono arrivati gli agenti del commissariato di Comiso e della squadra mobile di Ragusa per i rilievi Al momento le indagini sono ancora in corso e non si esclude che possa trattarsi anche in questo caso di incendio doloso E a Vittoria la Guardia di Finanza sequestra oltre 40.000 giocattoli e materiale elettrico per un valore di circa 55.000 euro A distanza di una settimana la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa Ha effettuato un altro maxi sequestro riguardante giocattoli e materiale elettrico Non conforme ai requisiti disposti dalla comunità europea Ad essere sequestrati oltre 4.500 prodotti di un esercizio commerciale di Vittoria specializzato nel settore I giocattoli e materiale elettrico oltre a essere privi del marchio CE Non possedevano indicazioni di provvedienza nonché le informative minime per i consumatori Per quanto riguarda il materiale elettrico posto sotto sequestro penale Il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito dalla Procura della Repubblica Locale Mentre per quanto riguarda i giocattoli anch'essi sottoposti sotto sequestro ma amministrativo Il proprietario è stato segnalato dalla Camera di Commercio di Ragusa E sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria che va dai 1.500 ai 10.000 euro Un bilancio positivo da parte delle Fiamme Gialle In quanto hanno sottratto al mercato circa 55.000 euro di articoli pericolosi destinati ai piccoli consumatori E a Vittoria botte e coltellate per un debito da 30 euro Nel pomeriggio si sarebbero recati presso l'abitazione di un loro conoscente Dal quale vantavano un credito di 30 euro Quest'ultimo però evidentemente non era dello stesso parere Ed anziché sborsare il denaro ha reagito violentemente a calci e pugni Bastonate anche con una coltellata al braccio del più giovane dei due creditori Il sangue e la confusione generata si hanno procurato l'allarme e la chiamata al 113 I fatti si sono svolti a Vittoria e le due vittime, padre e figlio, rispettivamente di 45 e 22 anni Hanno riportato diverse lesioni, considerate guaribili in 6 e 10 giorni Per il padre contusione cranica, abresione al volto e il distacco di un'unghia della mano Per il figlio invece contusione cranica facciale ed una ferita d'arma da taglia al braccio sinistro Gli agenti raccolti dati si sono dati alla ricerca del feritore Che è risultato essere un uomo di 25 anni già con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio Il giovane, rintracciato e identificato dalla polizia scientifica Dopo gli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica Presso il tribunale di Ragusa per lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma da taglio E in occasione di alcune perquisizioni domiciliari nel centro di Acate Sono stati tratti in arresto e condotti in carcere a Ragusa il 28enne Mario Procida e il 20enne Gaetano Velardita I due hanno violato gli arresti domiciliari a cui erano stati sottoposti dopo l'arresto lo scorso novembre Nel corso dell'operazione Predator Con la quale era stato sgominato un sodalizio criminale Dedito alla commissione di furti ai danni di istituti scolastici e cantieri edili Nella provincia di Raguse con base logistica proprio ad Acate E a Ragusa un minore si allontana da casa E' stato rintracciato con procedure di triangolazione del cellulare I servizi sociali del comune di Ragusa ieri hanno segnalato all'ufficio prevenzione generale Soccorso pubblico l'allontanamento di un minore Mentre si trovava presso l'abitazione di alcuni parenti sita a punta a braccetto Tanta la preoccupazione in considerazione del fatto che il giovanissimo già in passata aveva tentato il suicidio Per questo si sono immediatamente attivate le ricerche Usando le procedure di triangolazione del cellulare utilizzato dal minore Allo stesso tempo è stata dispiegata ogni unità operativa disponibile In modo da estendere le ricerche sia su tutto il litorale costiero Ma anche su tutti i luoghi frequentati dal minorenne E' stata attivata nel frattempo anche una certosina attività di raccolta di informazioni Da parte di tutte le persone che avrebbero potuto fornire indicazioni utili Lo sforzo profuso del personale alla fine ha avuto esito positivo E il minore nella notte è stato rintracciato e riaccompagnato a casa E a Modica, consiglio comunale infuocato sulla Ragusa Catania La minoranza abbandona l'aula e manca il numero legale Consiglio comunale infuocato ieri a Modica Che si conclude con l'uscita dell'aula dei consiglieri dell'opposizione per protesta politica Lo scontro si è consumato di fronte ad una proposta di mozione A favore dello sblocco del progetto di raddoppio della Ragusa Catania Mozione che sta per essere votata in tanti comuni del sud-est della Sicilia A Modica però la maggioranza propone e vota un emendamento Con il quale vengono cancellate le frasi relative al sostegno delle iniziative del tavolo dello sviluppo e del lavoro E l'impegno del sindaco e del presidente del consiglio comunale a partecipare alle iniziative dello stesso tavolo Un emendamento che secondo PDSL, oltre che indebolire il documento Farebbe fare una pessima figura alla città Che in questo modo persegue una linea di isolamento rispetto alle occasioni che la provincia offre In tema di iniziative per lo sviluppo Abbiamo ancora presente, continua la nota unitaria diffusa dai consiglieri di opposizione Il fallimento politico del tentativo del sindaco dopo mesi di dibattiti e incontri Di costruire un nuovo libero consorzio del sud-est O la recente brutta esperienza di non essere pronti ad acquisire le prime somme Discendenti dai ribassi d'asta per l'ampliamento della zona artigianale di Michelica Il consiglio tornerà a riunirsi oggi, visto che ieri con l'uscita della minoranza è venuta a mancare il numero legale I consiglieri di opposizione hanno annunciato di rinunciare al gettone di presenza della seduta E in un comunicato unitario chiedono per oggi un passo indietro E di votare quindi unanimamente la mozione nel testo originario Mantenendo un rapporto costruttivo con tutte le istituzioni e le associazioni presenti nel tavolo provinciale E a Modica sui servizi sociali per il PD Passi da Gambero Niente disponibilità dell'autoveicolo e dell'autista per il personale dei servizi sociali di Modica Che sino a poco tempo fa ne usufruiva per le visite domiciliari agli utenti E per il lavoro di rete con gli altri servizi del territorio Una notizia che sorprende, tuonano dal PD Visto che pochi mesi fa il comune aveva acquistato un autoveicolo proprio per i servizi sociali I rappresentanti del Partito Democratico si chiedono quindi se ci siano problemi al mezzo Oppure se si tratti di mancanza di autisti O se invece si tratti ancora di scelta politica a volta a depotenziare un servizio E penalizzare ulteriormente le fasce più deboli della cittadinanza Il PD invita quindi l'amministrazione a arrivare sollecitamente una soluzione Sempre nell'ambito del settore e dei servizi sociali Fanno notare i rappresentanti del Partito Democratico Il personale dell'asilo nido ha subito una rilevante diminuzione Con la conseguente futura riduzione del numero dei bambini ammessi Date il vincolo del rapporto insegnanti-bambini La notizia appare grottesca, tuonano dal PD Se si pensa che i locali dell'asilo nido sono stati restaurati di recente E si ha come l'impressione che l'amministrazione segue una sorta di politica del gambero Con un passo avanti Rimettere in perfetta efficienza i locali, seguito da due indietro Come di fatto il dimezzamento del personale Da parte sua l'amministrazione rispedisce le accuse al mittente Nessun taglio sarebbe stato fatto né sul parco auto né sul personale dell'asilo No all'ingresso di olio d'oliva dalla Tunisia o da altri paesi nel nostro territorio La deputazione eblea si è unita per difendere le produzioni del territorio ebleo Gli onorevoli Orazio Raguse e Nello Di Pasquale hanno infatti presentato all'Ars un ordine del giorno E una mozione per impegnare il governo regionale ad attivarsi a tutelare olio e produttori E ci spostiamo a Gela dove ieri si è tenuta una riunione del consiglio RSU del gruppo Eni Con le organizzazioni sindacali Come già annunciato da tempo i sindacati FICTEM, FEMCA e Wiltec sono tornati a riunirsi Con il consiglio della RSU del gruppo Eni per una disanima complessiva dell'azione dell'Eni sul territorio Dall'incontro di ieri è emerso in maniera univoca il disappunto In quanto messo in campo in particolar modo dalla raffineria di Gela Nel procedere in maniera unilaterale con un assetto organizzativo gestionale non condiviso tra le parti Durante il meeting si è discusso dell'operatività e della gestione dei lavoratori Facendo evidenziare che l'assetto attuale della raffineria In assenza di cambiamenti tecnici e senza un'adeguata formazione Metterebbe le strutture operative in condizioni precarie Dato che gli accorpamenti degli impianti non sono accompagnati da processi che ne permettono l'esecutività La RSU ha messo in risalto che dal 6 novembre 2014 a oggi I lavoratori hanno pagato un prezzo notevole Con l'allontanamento del territorio di oltre 600 unità collocanti in altri siti Il tutto realizzato in meno di un anno In questo scenario l'impostazione sindacale ha perseguito modalità tecniche ed operative A trovare delle soluzioni che alleviassero i disagi Infine le organizzazioni sindacali chiedono alle istituzioni territoriali, regionali e nazionali Un ulteriore impegno accelerando tutti i percorsi autorizzativi affinché la riconversione avvenga nei tempi previsti Permettendo così l'apertura dei cantieri e iniziando una fase massiccia delle attività lavorative E a Ragusa uno spettacolo tra teatro e danza per raccontare Frozen, il regno di ghiaccio Domenica 3 gennaio il teatro tenda di Ragusa apriarsi pari a Frozen, il regno di ghiaccio Uno spettacolo di teatro e danza dedicato a tutta la famiglia Lo spettacolo racconta la storia di due sorelle, Anna e Elsa Che pur volendosi molto bene sono state costrette a vivere lungamente separate Per via dei poteri di una delle due di creare e manipolare il ghiaccio I poteri della principessa Elsa non sono altro che un aspetto della sua personalità Una storia che fa vedere come ogni lato della personalità può essere un dono se presente nella giusta misura Ma può divenire una maledizione per se stesse e per gli altri se si manifesta in dosi eccessive E senza sapere intervenire col giusto controllo Lo spettacolo che vorrà portare scena a Ragusa abbraccia i significati morali E dà lo scopo di generare dentro ogni persona la ricerca personale e l'elaborazione di concetti profondi con semplicità L'elemento essenziale di questo spettacolo è proprio la danza Modalità espressiva o creativa che arriva a tutti con facilità Trasmettendo il messaggio della fiabba La rappresentazione teatrale di Frozen possiede un cast d'eccezione Composto da danzatori professionisti della compagnia Terzi Course Danza Con le coreografie e la regia curate da Nadia Genova Il tutto organizzato dalla compagnia Maria Taglioni Diretta dalla maestra Cetti Schembari e con il padrocinio del comune di Ragusa Frozen riprende il colossal cinematografico Offrendo un vero e proprio pomeriggio divertente Allegro e pieno di fantasiosi colpi di scena Che si concluderà con una sorpresa Il lancio di palloncini giganti tra il pubblico Con una pioggia di stelle filanti E la handball Ragusa riprende gli allenamenti In vista della ripresa del campionato Riprendono anche durante le feste gli allenamenti della palla a mano Ragusa Il set allenato da Danino Scalone Che allo stato attuale occupa la prima posizione del campionato di Serie B In cui abitazione con la Etna Mascaruscia Non può mollare la presa In vista di una ripresa del torneo Che si annuncia a piena zeppa di scontri diretti Considerato tra l'altro che nello spazio di quattro punti Ci sono ben quattro formazioni Tutte attrezzate per poter lottare sino alla fine Per la conquista di un posto al sole Come abbiamo potuto vedere a ferma Scalone Il torneo si è dimostrato molto competitivo Come spesso accade Però facciamo i conti con alte e bassi Mentre dovremmo cercare di concentrarci molto di più sulla continuità Scalone si dice parecchio fiducioso su questo gruppo Che può dire la propria in qualsiasi circostanza A patto che riesca ed esprimersi come sa fare Dopo l'ultima gara vinta sul campo dell'Albatro Siracusa, la palla a mano Ragusa tornerà in campo il 10 gennaio Alla palestra Sebastiano Parisi In via Bellarmino Per lo scontro testa a coda contro il Villa Aurea Palermo Che finora non ha vinto neppure una partita Il match sarà valido come penultima giornata Del girone di andata Non mi fido, afferma il presidente del sodalizio ebleo Giuseppe Girasa Di incontri del genere di solito si rischia sempre di sottovalutare l'avversario E per questo motivo si possono commettere una serie di svarioni Che potrebbero risultare penalizzanti Ecco perché Girasa si augura che il team possa scendere in campo con la dovuta attenzione e concentrazione Come se si trattasse di confrontarsi con l'altra squadra prima in classifica Bene per oggi è tutto Questo era l'ultimo servizio Io vi ringrazio per l'attenzione E arrivederci Grazie a tutti